Anche la borghessissima Monaco di Baviera cala la maschera, o meglio, la toglie in forma di protesta. Unici a portarle i poliziotti che questo sabato hanno visto sfilare circa 10.000 persone. Prova che, dopo la culla del movimento Stoccarda e la ribelle Berlino, i nomaschi stiano guadagnando terreno. Coronavirus uguale Germania dell'Est, l'equazione che è affidata a una bandiera, riassume le accuse di molti manifestanti. Ormai non abbiamo più una Costituzione, abbiamo soltanto leggi che ci proteggono dalle infezioni, ma con il pretesto di queste leggi veniamo privati di tutti i nostri diritti fondamentali. Sono contrario a tutte queste misure perché esistono anche tanti virologi che dicono il contrario, ma sono ignorati dai media. Mobilitazione anche in Polonia, dove la protesta è andata in scena a Varsavia. Centinaia le persone che hanno risposto all'appello di un'associazione Novax per protestare contro misure che a loro dire tradiscono un virus ben più pericoloso, quello della propaganda.